La speranza porta pazienza, la speranza si porta via depre e ansia, la speranza è il carburante per far fare a noi umani sforzi che mica faremmo, se no virus, clima o crisi economica che sia. Se speri vivi più a lungo, sale la speranza e scendono i tassi di mortalità, la speranza turbo carica l'ottimismo, il futuro diventa più colorato e quei colori nel nostro cervello iperattivano amigdala e corteccia cingolata anteriore, le stesse due aree che si inceppano in caso di depressione e del delay fratello, so al pessimismo, chiaro no? Ma vedere il futuro fluo non basta, secondo uno psicologo che sul tema è un grande saggio, Charles Snyder, la speranza diventa un superpotere se viaggia su obiettivi, senso di iniziative e strade da percorrere, perché ok sperare che succeda qualcosa di bello, ma ci serve poter vedere che se può fare, che diceva Obama, hope, speranza e yes we can. Oggi tra vaccini, soldi europei e voglia di fare, atmosferica, abbiamo ingredienti e fornelli, manca solo lo chef, decisioni, tempi e attributi per dimostrarci che se può fare, poi si vola. E questo è un minuto.